A Pieve di Cadore la consegna del ricavato della festa di beneficenza Cadore riparti a 5 associazioni attive durante l'emergenza maltempo. L'impegno di 25 giovani cadorini e la disponibilità della magnifica comunità a fornire gratuitamente gli spazi dell'ex caffè Tiziano hanno consentito di dare un aiuto concreto al mondo del volontariato. Abbiamo preferito destinare una congrua somma a poche associazioni piuttosto che una somma modesta a tante quindi i giovani del centro Cadore che quindi vanno dai comuni di Pieve, Domegge, Calalzo e Lozzo autonomamente in una maniera soggettiva ognuno ha deciso a quale associazione del proprio paese destinare i proventi. Per Pieve è stato deciso di assegnare il ricavato che è di circa 2.000 euro d'associazione visto che la festa ha comunque fruttato 8.000 euro in totale, il ricavato dei Pieve andrà al soccorso alpino di Pieve. Per quel che riguarda Calalzo invece i 2.000 euro andranno ai vigili del fuoco volontari mentre per Domegge verrà premiata la protezione civile e per il comune di Lozzo che divide la propria somma con Vigo verranno premiate le sessioni locali del CAI.